lunedì si torna a scuola in gran parte d'italia rivolgo un saluto a tutti voi ragazze ragazzi insegnanti dirigenti personale scolastico genitori sarà un momento di intensa emozione così almeno è stato per me ogni primo giorno di scuola è un'emozione che vivrò anche io da capo di un governo che nei mesi scorsi ha lavorato per un ritorno in classe in sicurezza ma anche da padre di un figlio che si accinge anche lui a tornare a scuola la scuola è il cuore pulsante del nostro paese è un luogo di accoglienza particolarmente prezioso accoglie voi ragazzi vi stimola vi accompagna nei processi di crescita personale e culturale nella scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore tornate a scuola non solo per imparare le nozioni che ritroverete in libri di testo ma imparerete anche a comunicare meglio a dialogare a confrontarvi con chi la pensa diversamente la scuola vi consente di rafforzare il vostro bagaglio di conoscenze di esperienze di coltivare i sogni che realizzerete quando sarete donne uomini adulti la scuola vi offre inoltre la possibilità di rafforzare la vostra coscienza critica vi aiuta a comprendere che prima di ogni altra cosa viene il rispetto della persona della sua dignità anche a prescindere dalle sue idee dalle sue convinzioni è luogo che vi fa capire che la forza vera è quella che combatte ogni forma di sopruso e di ingiustizia non quella che si nasconde nell'indifferenza o peggio sfocia nella violenza e per tutte queste ragioni che questo rientro in classe è davvero importante ci saranno difficoltà disagi soprattutto all'inizio la scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni aggravate dall'attuale pandemia ma voi dovrete fare la vostra parte dovrete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone che amate che vi amano un saluto anche agli insegnanti avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown continuando a fare lezione con la didattica a distanza non era affatto facile eppure avete svolto un grandissimo lavoro e per questo vi siamo grati ringrazio anche le famiglie le mamme i papà che hanno già fatto molti sacrifici e grazie anche ai dirigenti a tutto il personale della scuola in questi mesi estivi non vi siete fermati un attimo avete lavorato tanto tantissimo per essere pronti per la riapertura e per accogliere degnamente tutti i nostri ragazzi saremo con tutti voi saremo al vostro fianco e continueremo a esserlo anche nei prossimi giorni nei prossimi mesi cari studenti vi auguro di affrontare e vivere in un anno scolastico con fiducia ed entusiasmo impegnatevi nello studio migliorerete voi stessi